Le tradizionali feste organizzate negli spazi pubblici all'aperto nella serata del 31 dicembre, già oggetto in alcuni comuni di specifiche ordinanze sindacali di divieto, risultano ora generalmente vietate laddove implicano il rischio di assembramenti. E quanto si legge nella circolare del Ministero dell'Interno ai prefetti, si tratta del documento inviato in occasione del decreto dello scorso 24 dicembre con cui il Governo ha prorogato lo stato di emergenza e introdotto e ulteriori misure per contrastare la diffusione della pandemia. Si elencano quindi le nuove regole in merito a Green Pass e Super Green Pass, ma anche per le mascherine all'aperto e quelle di tipo FFP2. E poi il Viminale chiede ai prefetti un'attenzione particolare in vista del Capodanno. Per la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio è stato chiesto di intensificare i controlli per verificare il rispetto delle disposizioni anti-Covid. L'esigenza è di una mirata intensificazione dei dispositivi di controllo, si legge nella circolare, viene in rilievo anche nelle successive giornate prefestive e festive che presumibilmente saranno connotate da un'intensa mobilità urbana, specie nelle zone centrali e in quelle comunque contraddistinte da una maggiore concentrazione di locali ed esercizi aperti al pubblico. Per ricapitolare, in questo weekend di fine anno saranno aumentati i controlli per evitare gli assembramenti, nessun festeggiamento in piazza sarà permesso e i classici veglioni degli anni scorsi saranno quindi vietati.